Anche le aree Covid aprono le proprie porte ai parenti e sarà sicuramente questo il regalo di Natale più gradito. All'ospedale San Donato di Arezzo, infatti, dal 23 dicembre sino al termine delle festività, saranno consentite ed organizzate le visite dei parenti ai ricoverati anche nell'adegenza Covid. Abbiamo pensato fosse opportuno venire incontro a un bisogno espresso ormai da tempo, espresso dai familiari, espresso dai pazienti ricoverati perché in un momento così difficile durante un ricovero che è sempre abbastanza complesso e anche prolungato, soprattutto in alcuni casi la vicinanza dei familiari può anche essere considerata facente parte della terapia. Quindi abbiamo approfittato chiaramente dell'approssimarsi delle festività natalizie per condividere con gli operatori la possibilità di costruire un percorso in sicurezza. Sarà quindi possibile l'accesso dei parenti dei pazienti Covid ricoverati sia in terapia intensiva che nella cosiddetta bolla Covid, ma anche negli altri reparti, il tutto ovviamente seguendo rigide regole. Per i reparti Covid ci sarà una programmazione definita da parte dei medici che hanno in cura i pazienti che individueranno le situazioni in cui è opportuno permettere l'ingresso in reparto. In queste situazioni i familiari verranno preventivamente contattati, verrà condiviso il giorno e la fascia oraria e al momento del loro arrivo in reparto verranno seguiti da un operatore che garantirà la vestizione secondo i criteri di sicurezza che ormai abbiamo appreso, istruirà il familiare sui protocolli di comportamento da tenere all'interno del reparto e poi garantirà anche la fase di uscita e di svestizione. Questo per garantire assolutamente la sicurezza della permanenza all'interno del reparto con il familiare reso consapevole di questa necessità. Per quanto riguarda invece l'adegenza no Covid ci sarà un minimo di margine in più considerando la sicurezza ambientale comunque garantita in altro modo attraverso l'utilizzo della mascherina, del giusto distanziamento e della disinfezione delle mani. Ci sarà sempre comunque un'autorizzazione preventiva da parte del responsabile del reparto che prenderà contatti con il familiare e che permetterà al familiare sempre in fasce orarie definite di entrare in reparto. Il fatto che le fasce orarie e i giorni vengano definiti preventivamente è chiaro che è una sicurezza per impedire il sovraffollamento che ovviamente non ci possiamo assolutamente permettere né per la sicurezza di chi viene né per la sicurezza degli operatori che devono continuare a far funzionare operativamente il reparto.